Apsi di Youtube ben trovati da Marco Liguori e in fin di vita l'allenatore di Serie A in questo video parliamo di un tremendo dramma che ha colpito tutti gli appassionati di calcio e prima di saperne di più vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video un fulminaccio sereno ha squarciato il cielo del mondo del calcio la leggenda della panchina non soltanto della Serie A ha dichiarato di avere soltanto un anno di vita queste sono state le dichiarazioni shock del grande tecnico svedese Sven Goran Eriksson ex allenatore tra l'altro di Sampdoria Lazio in Roma Sven Goran Eriksson è stato uno degli allenatori più bravi e più vincenti della sua generazione di recente il 75enne svedese è apparso molto dimagrito e molto provato Sven Goran Eriksson ha dichiarato ho un cancro al pancreas nel migliore dei casi mi resta un anno di vita nel peggiore anche di meno puoi in qualche modo ingannare il tuo cervello pensare positivo e vedere le cose nella maniera migliore non perderti nelle avversità perché questa ovviamente è la più grande di tutte ma l'importante è ricavarne qualcosa di buono da questa esperienza queste sono state le parole del ex tecnico svedese parole che ovviamente hanno gettato nello scompiglio tutto il mondo del calcio il primo è di Marco Liguori ovviamente monitorerà la situazione di Sven Goran Eriksson intanto facciamo gli auguri al grande ex allenatore svedese amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul secondo canale di Marco Liguori e sul nuovo canale Marco Liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti